A quanto pare, le regole di YouTube vogliono che tu inizi un video di gadget facendolo cadere dall'alto con uno zoom drammatico, se no non è un vero video professionale. Per questo video ho recuperato alcuni dei gadget virali o più interessanti per le postazioni che ho visto su Instagram, TikTok e YouTube, per darvi un'opinione onesta e genuina, visto che sapete che ci tengo tanto alle postazioni. Questo è probabilmente uno dei più interessanti, ma ce ne sono molti altri. Una volta finito il video, fatemi sapere qual è stato il vostro preferito. Prima però, nel nuovissimo canale WhatsApp di More Than Tech, trovi offerte per risparmiare fino al 50% sul tuo prossimo acquisto. Link in descrizione. Questo si chiama Mini PC ed è prodotto da Geekom, quindi un'alternativa, in questo caso Windows, a tutto quello che è l'ecosistema Apple invece del mondo dei Mac Mini. Però a differenza dell'ecosistema di casa Apple, di cui io stesso sono fruitore e ci tengo a dire, permettono all'utente di fare upgrade della parte delle memorie, quindi aumentando la capacità di storage del nostro SSD o anche della RAM. I Mini PC sono solitamente caratterizzati dalla stessa struttura che troviamo sui portatili Ultrabook, quindi un forte processore e solitamente una GPU integrata ad accompagnarli per svolgere qualche piccolo carico. Non sono dei PC pensati per altissima produttività, ma per accompagnare un utente da ufficio nella sua giornata e poter gestire molte tipologie di carico contemporaneamente. Quindi vi parlo di cose come fogli di Excel, chiamate, consultare siti, insomma produttività base, che può arrivare anche a essere cose come modificare delle grafiche su Canva o anche lavori un pochettino più semplici su Photoshop. All'interno di questo Mini PC troviamo un 5800H. È un processore Ryzen 7 che dispone di 8 core, con un consumo di 35 Watt. Insomma, se avete bisogno di un pochettino più di cavalli rispetto al classico PC da ufficio, ma non avete lo spazio per inserire un desktop completo, anche soltanto un mid-tower, effettivamente i Mini PC sono una cosa interessante. Per quanto riguarda le prestazioni, il 5800H non è il processore più recente di casa AMD, tant'è che è già uscito il 6800H e penso che non manchi molto per vedere il 7800H corrispettivo. Però per quanto riguarda le sue prestazioni è rimasto comunque piuttosto alto nelle classifiche generali, come potete vedere da questi test di Techspot. Si paragona bene anche rispetto alle nuove generazioni, andando più o meno a inserirsi comunque nella parte alta dei test. I Mini PC sono quindi pensati per un'utenza che non voglia assemblare, che voglia trasportare, che voglia muovere e che voglia meno complicazioni possibili. L'unica cosa che un po' mi dispiace dei Mini PC, ragazzi, è che continuano a farli con questi alimentatori che superano le dimensioni del PC stesso. Ed è un peccato, visto che comunque hanno dei consumi molto molto bassi. Il processore qui consuma circa 35 Watt, quindi forse in un prossimo futuro li vedremo alimentabili anche mediante USB-C. Per esempio ci sono alcuni monitor che possono buttare fuori una Power Delivery da 65 Watt. La parte della connettività è piuttosto completa e include anche un lettore DSD. L'unica cosa che avrei preferito vedere in più è un'altra USB-C o almeno vederla sulla parte frontale per una semplicità d'accesso. Però ragazzi ricordatevi anche che i Mini PC sono fighi, ma in situazioni di render molto aggressivo, come per esempio questo Cinebench R24, vi ritroverete con temperature molto molto alte e anche una situazione di rumore piuttosto ingente. Quindi potete valutarlo se avete una delle richieste che soddisfa questo piccolo oggettino, però tenete in considerazione anche i punti negativi. Questi oggetti che vedete qua sono perfetti per chi ami la pixel art o comunque in generale voglia arricchire di schermi ovunque la propria postazione. Svolgono una funzione principalmente estetica, ma hanno anche delle parti informative e utili. Adesso vi spiego. Questo è il D2 Pro di Divum. Come funziona? Prima di tutto guardate che carina la confezione. Si apre così, come una sorta di capsula spaziale, e si estrae il D2 Pro. Ha una sua batteria integrata e la sua funzione principale è quella di arricchire la nostra postazione, ma funge anche da cassa Bluetooth da ben 15 Watt. Ma prima di tutto mi ha fatto molto molto ridere la cosa dei tasti, perché come potete vedere ha tipo dei tasti come se fosse la testiera di un PC. Sono clicky. Cioè, sono proprio degli MX Blue, non sto scherzando. Hanno montato degli MX Blue e questi sono dei keycaps. Quindi, se vi piacciono gli switch clicky, fa per voi. Per quanto riguarda la componente di pixel art, si può realizzare tutto mediante l'app di Divum. Ci sono dei modelli precompilati, proprio dei template, fatti anche dalla community, che potete posizionare sopra. Le loro funzionalità, in questo caso sul D2 Pro, sono principalmente estetiche, quindi di per sé non svolgono niente di pratico, ma arricchiscono la nostra postazione. Ci sono tanti design e ci sono ovviamente anche persone che hanno fatto design dedicati a personaggi iconici, come per esempio tutti quelli di Nintendo. L'app è piuttosto facile da utilizzare e poi si può ovviamente anche connetterla a Bluetooth per fungere da cassa, da speaker, proprio magari per ascoltare della musica o cose del genere. Avrei preferito se avessero fatto una versione completamente bianca o comunque con un design bianco principale. L'unica cosa che mi spiace un pochino è la batteria, in quanto dura veramente poco. L'ho utilizzata giusto per un paio d'ore per ascoltare musica e ho notato che si è spenta, quindi di per sé dovrebbe avere un'autonomia abbastanza limitata. Però dal punto di vista estetico è proprio carino ed ha un'aggiunta particolare alla nostra postazione. Se invece volete un qualcosa di un po' più complesso, ragazzi, questo qui ha vinto il mio cuore. Siamo di fronte al Timesgate, sempre di Divum, ma in questo caso ha un sacco di funzionalità in più. Prima di tutto si connette al nostro Wi-Fi e permette di avere un controllo un po' più completo sopra il dispositivo. Dispone di 5 schermi e sono singolarmente personalizzabili oppure si possono fare dei gruppi. E ovviamente anche in questo caso possiamo prendere dei template dalla community mediante l'app di Divum oppure possiamo crearceli noi a mano. In questo caso le integrazioni sono molto molto più avanzate, in quanto non si parla soltanto di pixel art, ma anche attraverso il Wi-Fi, di possibilità di aggiornare dei dati in tempo reale. Per esempio io in questo caso posso mettere i dati del mio canale YouTube, ovviamente senza fare login, ma semplicemente facendoli reperire da internet, e quindi posso avere una visualizzazione dei miei iscritti in tempo reale. Si possono anche utilizzare altri social, si possono anche mettere altre funzionalità in base a quello che ci piace. Possiamo per esempio avere un aggiornamento costante sulle azioni o su per esempio le criptovalute. Possiamo inserire dati di un po' tutte le funzionalità, incluse addirittura le notizie. La mia cosa preferita però rimangono la simulazione dei Nixitube, cioè quegli orologi stile Metro Exodus super fighi che fanno questo effetto meraviglioso. Io ne ho sempre voluto uno, ma i Nixitube costano tipo quelli fatti bene 200-300 euro. Invece questo costa tipo un terzo e permette anche di fare altro. Ovviamente l'effetto non è lo stesso, però è un buon inizio. E onestamente l'estetica generale di questo è proprio bella. Fa tanto spazio, quindi la metterò nella mia postazione bianca, che appunto continuerò ad adornare di cose a tema spaziale. In questo caso l'alimentazione è diretta, però ragazzi se avete per esempio un monitor compatibile potete alimentarlo direttamente da lì e quindi evitare di far passare cavi in giro per la postazione e anche fare un colpo di classe abbastanza carino mettendolo lì sotto. Personalmente è uno dei miei tre oggetti preferiti di oggi. Però questo vince il podio per il mio oggetto preferito di oggi. Ragazzi il controller ufficiale Xbox per Starfield è bellissimo. Penso sia il miglior controller mai realizzato da Xbox. è un oggetto d'arte, ha una marea di dettagli e più lo guardi e più aumentano. È veramente fantastico. L'ho recuperato da GameStop al prezzo di 74,99 che non è proprio pochissimo, però al tempo stesso è un pezzo piuttosto unico. E per quanto Starfield non sia entrato nella mia top 10 per i miei giochi preferiti di sempre, ho voluto almeno recuperare il controller tematico perché a tutti gli effetti è un pezzo d'arte. Dai, guardate, la parte posteriore dei trigger è trasparente come plastica e permette di vedere il piccolo sistema di funzionamento interno, che oltretutto dovrebbe essere quello correlato alla vibrazione. La parte frontale sembra proprio la cloche di un'astronave con tanti riferimenti di possibili comandi da immettere e devo dire che questa scelta del rosso della Constellation è proprio meravigliosa. È veramente assurdo mettere un controller base di Xbox vicino, praticamente sembra che siano due generazioni di console differenti perché è proprio perfetto. Non so come spiegarvi quanto si è innamorato di questo controller, però penso di esserci riuscito. E parlando sempre di periferiche, ragazzi, vi presento la cosa più interessante che ho comprato questo mese, un mouse verticale. In questo caso siamo di fronte al lift di Logitech, che è un mouse verticale piuttosto tranquillo dal punto di vista delle specifiche, però è incredibilmente ben pensato. E vi dico subito che non credevo sarebbe stato così semplice passare da un mouse orizzontale a un mouse verticale. In letteralmente mezz'ora la mia mano si era perfettamente adattata al nuovo mouse. Ma come funziona? Se prendiamo un mouse normale e ci posizioniamo la mano sopra, la cosa che possiamo notare è che il nostro avambraccio è ruotato assieme al polso rispetto alla posizione naturale che manterrebbe, dove questi due, insomma, sono perfettamente in linea. Il mouse verticale ovvia a questa situazione permettendoci di impugnarlo con praticamente una rotazione di circa 90 gradi e dando quindi la possibilità al braccio di rimanere maggiormente dritto e in linea con tutto il resto. E ve lo dico molto onestamente, non l'ho comprato perché soffro di tunnel carpale o di altre complicazioni, ma semplicemente perché volevo sperimentarlo ed effettivamente risulta molto più leggero quanto intuitivo usare un mouse con questa inclinazione. È perfettamente calzante alla mia mano. Oltretutto la dimensione di un mouse del genere è piuttosto universale per chi ha mani grandi, mani piccole o mani medie, ma soprattutto esiste sia in versione per destrorsi che per mancini in due colorazioni, bianca e nera. Quindi veramente c'è la possibilità di utilizzarlo in ogni contesto possibile. Esiste anche una versione dell'MX Master re-ingegnerizzato in versione verticale, però non sono riuscito a trovarlo e ho iniziato con questo. L'unica critica che mi sento di fare a questo mouse è che la parte grigia di gomma mi sembra che si stia ingiallendo un po' velocemente, ma potrebbe essere un problema correlato alla mia sudorazione banalmente. Magari sono un po' incompatibile con questo tipo di gomma. Però per il resto è un qualcosa che veramente sta cambiando il modo in cui lavoro e sono un sacco contento di utilizzarlo. Vi dico genuinamente che se lo facessero utilizzare volentieri un mouse verticale da gaming, cioè con tutte le caratteristiche che rendono per esempio l'ARPace Wireless un gran mouse, però con questa inclinazione. Mi troverei tanto bene. E soprattutto è un investimento che molti di voi potranno fare senza distruggersi il conto in banca. E con il mouse verticale, che ripeto, super consigliato, concludiamo questo primo episodio dei gadget dedicate alle postazioni. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, quale vi piacerebbe magari vedere in un prossimo video e se magari avete delle preferenze su colori o cose del genere. Per questo video è tutto, voi stati su Mordentech, tala musa!